popolo youtube qui per voi ar01 con il primo video della pagina the double a01 pagina nata da pochissimo appunto questo il primo video su slenderman insomma dei double a01 ci sono io ar01 e un mio amico che oggi non c'è appunto a01 che è partito per le vacanze di natale diciamo il 28 dicembre tornerà fra un paio di giorni dopo capodanno insomma questo è il primo video giocheremo a slenderman un gioco horror diciamo in cui un uomo senza faccia con le mani penso lunghe molto tutto bianchissimo ci inseguirà per tutta la mappa chiamata elementary quindi la scuola dove dobbiamo trovare 8 teddy obesi infilate a degli spuntoni i primi 3 sono facilissimi anche i primi 5 diciamo che sono facilissimi però trovare l'uscita è anche facile solo che se slenderman deve fare lo stronzo appunto siamo una ragazzina e dobbiamo vagare in cerca di teddy teddy ciccioni per salvarci da quest'uomo smilzo 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 che uccide tante persone guardate un braccio amico di ted allora dobbiamo trovare 8 ne dobbiamo trovare ne rimangono 7 anzi 6 You can tie E ne rimangono 5 adesso Perché lì in quella stanzucola C'è il teddy Addirittura questo teddy infilato Nello spuntone dalla bocca Ecco che Ci apprestiamo Corri Avete visto tutti Il pezzone Mi può correre tanto Corri Sto pezzo di merda E lui è fiero di sé È importante Per lui è che è fiero di sé Questo sarà un'impresa Uscire da qui Anzi non ce la faccio Perché mi becca sempre Fa come cazzo gli pare Lavagna Ancora lavagna Alberi strani Teddy È una lavagna ancora Quarto teddy Uscirò e rientrerò in un'altra stanza E poi uscire da questa E rientrare subito nella stanza del quinto teddy Attenzione qui Vicolo ciechissimo Buono Lenny ci ha graziato Adesso farà il pezzone Adesso farà il pezzone di merda Quindi correrò La via d'uscita è smarrita Corri meno 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 e non può vengono la porticina la porticina piccola vado dritto porticina porticina cazzo porca la eva mi sono perso mi sono perso ragazzi mi sono ufficialmente perso ne ero certo l'impresa per me è sempre la stessa strada mi perdo sempre qua sono proprio cesso questo giochetto mi esco subito fuori le polterze esco fuori e mi perdo mi perdo come cosa faccio e mi perdo ragazzi quindi devo uscire subito fuori so che sono lì quindi ci entrerò buttati perchè non riesco proprio non riesco mi spiace non riesco a trovare la via d'uscita questo è un asfalto purtroppo purtroppo non riesco a trovare la via d'uscita ma se qui c'era 95 per quest'oggi non farà nessun comment per i pensi se la dico le punte da servare il fratellino a r mentre gioca a ultimate team vi hai capito una squadra impossibile a batti c'è una disce centrale mascherano che li mette così chi è mascherato chi è mascherato? mascherano eh oddio vengisparroio ragazzi non posso prendere elementari come è? ma che buona salta su tevo silva ma che cazzo ma non mi ha già buona c'è tevo silva quello di feste c'è così ma che è lì ma che è lì non rompere adesso perché capirlo dobbiamo trovare gli obesi adesso i primi li faremo in velocità non sto stancando bisogna di non velocizzare perché altrimenti si sente c'è il testo merda merda vediamo il soffitto molto bene vediamo il soffitto molto bene io chienzo albergo non so cosa cazzo tu tu puoi non so no tu non puoi qualcosa subito fuori adesso subito fuori adesso ehm per poi entrare per almeno arrivare a 6 andiamo fuori andiamo fuori no eh guardatemi guardate la pippa andiamo lì no oh oh ci segue solo a treno corri merda corri merda corri merda corri merda corri merda corri corri merda mer 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 da diciamo cosa so che era vicino il quarto teddy ma basta basta no che cazzo ci sta là sopra guardamolo guardiamolo corri oh merda vuoi correre oddio mo no perchè lo torno indietro io guardalo guardalo come camper affanculo guarda la merda st la stella st adesso rientro e andiamo a prendere il quarto tempo più cattivo di prima le campane suonano a festa lavagna un'altra lavagna ecco il quinto teddy quinto di otto lì c'è il sesto eh adesso che ci giriamo ci fa male ci fa molto male attenzione ragazzi il cuore mi batte a mille perchè che che culo merdoso si si ma corro non so dove devo andare cazzo cazzo di merda questo vabbè vabbè ragazzi noi siamo arrivati a 6 insomma 6 non è male insomma 6 non è male buon risultato video durato abbastanza quindi insomma ragazzi ci vediamo alla prossima al prossimo episodio sempre su elementari quindi su slendy e quindi ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate un mi piace e un commento poi vi faccio sapere se sono riuscito a vincere con della squadra fortissima sicuramente lo scriverò nel commento e sicuramente prendo la pasta si e ragazzi insomma facebook di double 01 mi piace e anche su youtube di double 01 mi piace ragazzi semplice una semplice iscrizione quindi alla prossima con ancora slendy alla prossima forza minan ciao ci vediamo alla prossima ciao